Entrano in campo le due formazioni, quella fresana in rigoroso bianco-rosso che poi sono i colori ufficiali, l'altra in giallo-verde, l'altra formazione. Come vedete al centro i tre arbitri che poi insieme al compianto Santarelli hanno organizzato questo torneo nel lontano 1963. Consentono a Gino Bracciale di fare le foto e poi si darà inizio alla partita che, ripetiamo, dovrebbe essere di un'ora totale. Adesso Filippo Dirisio ha invitato giustamente ad una foto comune, atteso che si tratta di vecchi amici, che come ci ha appena detto Gino Bracciale, sentono questa occasione come un puro ricordo dei tempi giovanili. Nicolino Berardi, che è l'altro organizzatore, il capitano del Resco del Trigno, ha richiamato le squadre ad un discorso che purtroppo noi non sentiamo che Gianni Castaldi, arbitro federale che come è noto ha varcato i massimi campionati nazionali, adesso sta facendo alle squadre, probabilmente raccomanda ai giocatori massima disciplina e rispetto in campo, perché come è noto si tratta di una amichevole, anche se poi l'agonismo può prendere anche le più belle intenzioni di chi naturalmente è venuto a divertirsi questa sera qui a Fresa. Molti professionisti noti tra queste squadre, molte persone affermate nei propri campi ed anche oramai in quescenza, gli arbitri ed il segnalino laterna arbitrale in rigorosi abiti neri. Inquadriamo Martone che controlla professionalmente, professionisticamente, la rete della porta di Fresa, porta presso la quale si è già disposto il noto portiere Deglio Di Biase, che pure è stato arbitro e che se non andiamo errati tra i 40 quasi, perché sono 17 e 19, quindi tra i 36 giocatori in campo è quello più panciuto, con una pancia rilevante, ma dovendo giocare in porta non ha molto bisogno. Tocco di palla di Donofrio verso Bologna, indietro e Walter Di Laudo di Celenza non ce la fa a riprendere la palla, che viene rimessa lateralmente da Costantino Santini, ancora Costantino Santini verso Ricciardi, palleggio e ora è Di Francesco che controlla il pallone, sempre Fresa, sempre Fresa che però perde il controllo della palla e fischio, doppio fischio dell'arbitro che segnala una rimessa laterale fatta da Fresa, ancora Di Francesco, Di Risio. Di Risio verso Terpolilli, Terpolilli controlla il pallone e manda verso Ricciardi, Ricciardi per Costantino Santini che ricordiamo ha giocato anche in quarta serie, quindi forse uno dei più esperti, ancora Costantino. Verardi, adesso il tocco è di Racciatti in avanti, fischio dell'arbitro e crediamo rimessa da fondo campo da parte di Barisano, il portiere del resto, anzi non tocca Barisano ma Spalletta se non andiamo errato, Copaiolo e ora ancora Copaiolo, ancora Copaiolo, non ce la fa a far passare il pallone che è ricontrollato dal Fresa con Ricciardi che lancia in avanti verso Catalano. Catalano che ha perso il pallone, Donofrio la riprende e ancora Berardi. Castaldi, Di Laudo controlla il resto del Trigno, ma Di Francesco che è omnipresente perde la palla fresa, fischio di Castaldi, Delio Di Biase e Terpolilli. Terpolilli, Terpolilli ma c'è un fischio, ancora Terpolilli verso Costantino Santini che probabilmente dovrà scambiare e infatti scambia verso Racciatti, Di Francesco. Di Francesco in avanti verso Catalano, Catalano ma non conclude, anzi il buon Barisano blocca il pallone e lancia verso Maciulli, anzi verso Berardi, Nino. Ancora Berardi, Nino, Donofrio Gaetano, Berardi, Nicolino, Angiolino Cupaioli. a Walter la penna perde il pallone, no non la perde lui perché è assegnato la rimessa laterale, Cupaiolo-Angiolino verso Gaetano Donofrio, Gaetano Donofrio sempre su Walter Di Laudo che scambia con Giovanni Bologna, subisce fallo Bologna, batte, 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 Berardi. Fischio e lancio di Berardi, colpo di testa di Costantino Santini, Fresa controlla la palla in difesa, non la raggiunge, anzi Di Francesco perché non aveva raggiunto adesso controlla lui il pallone, c'è un fischio, Castaldi comanda una rimessa laterale dal resto del Trigno Conno no, era un calcio di punizione assegnato a Giuliano Felice che lancia verso San Siviero dovrebbe essere questo perché evidentemente si sono scambiate le magliette rispetto alla distinta che noi abbiamo perché Berardi Nicolino certamente lo conosciamo, non è il numero 10. Comunque Lelio Maciulli di Fresa. Lelio Maciulli, lancio di Lelio Maciulli verso Ricciardi. Il gioco è fermo, la palla adesso viene recuperata da Barisano. Nicolino Berardi per Spalletta che però perde la palla, rimessa laterale di Fresa, Peppino Di Francesco verso Terpolilli. Terpolilli cambia con D'Alfonso, ancora D'Alfonso insidiato, la palla è fuori, rimessa laterale di Berardi. Berardi verso Donofrio, Antonio, fratello di Gaetano, ma Fresa riprende il controllo della palla, sempre Terpolilli. Ricciardi. attenzione perché Elvio Maciulli rimanda in avanti, verso Racciatti, verso Racciatti e Ricciardi. Rimessa laterale, Giuliano verso Donofrio, Antonio, ma il Maciulli Elvio torna contro la palla, la riperde Fresa, ancora Berardi Nicolino. Berardi Nicolino verso Gaetano, Gaetano Donofrio, il quale passa ad Angiullino Cubaiolo che purtroppo non ce la fa e arriva Costantino Santini che rimette. Scambia, ancora Costantino, Racciatti. la palla è fuori. Rimessa di Lucio Barisano. Costantino che lancia in avanti, ma la palla è alla rappresentativa del Trigno, ancora Walter Di Laudo dopo uno scambio con Cubaiolo Angiullino. Donofrio intanto in avanti, insidia anche se la difesa di Fresa con Filippo Di Rissio riesce a controllare. Rimessa laterale della rappresentativa del Trigno affidata a Nicolino Berardi verso Antonio Donofrio. Antonio Donofrio che controlla bene ma perde la palla e che finisce ovviamente sul fondo ed ora sarà Deglio Di Biase a lanciarla verso il centrocampo. C'è un primo cambio. Entra Renato con il numero 22 e il quale sostituisce il non capiamo chi sostituisce, dovrebbe essere il dottor Pesa o Filippo. No, è Filippo Di Rissio non vediamo bene ma comunque. Adesso Peppino Di Francesco lancia in avanti, cerca di bloccare San Siviero. Colpo di testa di Lino D'Alfonso, ancora di Francesco. Rimessa laterale di San Siviero. Donofrio. Donofrio. Giuliano Felice. Non blocca Di Francesco. Donofrio Antonio in avanti ma Deglio Di Biase blocca e rilancia. San Siviero e Di Laudo. Berardi. San Siviero non Berardi. Renato verso Peppino Di Francesco. Peppino Di Francesco lancia verso Nino Catalano il quale però non blocca, non recupera. La palla finisce sul fondo e spetterà a Lucio Barisano rimetterla in campo. Palla di nuovo in gioco. Colpo di testa di Donofrio. La palla finisce fuori e Elvio Maciulli batte controfallo. Con rimessa di Nicolino Berardi. nuovo fallo laterale. Stavolta sarà Elvio Maciulli di Fresa Grandinaria a rimettere in campo, a tentare la rimessa. Lino D'Alfonso in avanti. Blocco di Gaetano Donofrio che è proprio una roccia. Renato. Renato Versolino D'Alfonso ma Fresa perde il controllo del pallone e la rappresentativa del Trigno Scambia. Ora è Di Francesco Cross. Fallo. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Vediamo sulla bandierina chi si incaricherà di tirare. Pare Renato. Renato che come è noto ha sostituito Filippo Di Rizio. Infortunatosi. Cross. E adesso contropiede del... No. Nessun contropiede perché perdono subito la palla i Trignini. Terpolilli su Costantino. Costantino Santini. Costantino Santini che rimette lateralmente. rimette lateralmente. Rimette lateralmente e ora è Di Francesco. Omni presente. Crossa e... sentiamo non sappiamo se viene inquadrato Angelo Paladino. Mister dei Trignini che comanda le disposizioni in campo. E adesso rimessa laterale del solito Nicolino Berardi. Maciulli. Verso Ricciardi. Ancora Ricciardi. Ancora Ricciardi che mantiene il controllo della palla. E... Fresa. Avanza. Avanza. Di Francesco che però... Anzi non è... Di Francesco. Ma era il centravanti. Era... Catalano. Attenzione. Bravo. Barisano. Costantino. Bel gol. di Costantino Santini. Che come abbiamo detto è uno dei più esperti. Quasi un cucchiaio. E' uno dei più esperti in campo. E infatti ha comodamente aspettato. E poi ha tirato. E ora si guode questo momento di gloria. Lui vecchia gloria. Che come detto negli anni Ottanta ha militato tra le file del US San Salvo nel Interregionale. Donofrio. Donofrio sul pallone. Al centro. Giuliano... Anzi Sanziviero. In avanti. Blocca Renato. Ma Giulli non controlla. Ma è Deglio. Ma è Deglio. Terpolilli. Terpolilli. In avanti. Terpolilli. Ancora Terpolilli. Ecco Di Francesco. Scambia con Costantino. Ricciardi. Francesco. Fresa che conduce per una rete a zero e sembra alquanto superiore. Rimessa laterale di Fresa. Racciatti. Filippo. Arriva Giuliano. Sì è Giuliano Felice. E ora ancora il Fresa ma perde il controllo. I Trignini con Notarangelo sulla fascia destra che controlla bene. Su Sanziviero. Devia Di Francesco. Attenzione Di Laudo sul pallone ma rientrano i Fresani. Ancora Notarangelo che si è spostato in avanti. Sanziviero. Blocca Maciulli. Lelio Maciulli blocca e consegna il pallone a Racciatti che scambia con Di Francesco. In avanti Di Francesco verso Lino D'Alfonso il quale non blocca. La palla finisce fuori. Rimessa e in capo ai Trignini. Giuliano Felice. Scambia con... Palla... Ecco. Interviene Gaetano Donofrio che scambia con Notarangelo. Sanziviero. Sanziviero in avanti. Palla bloccata da Fresa. Da Renato. il quale consegna ovviamente al Di Francesco. A lui vicino. Ecco. Ancora Fresa. Sanziviero. Sanziviero verso Giovanni Bologna che se ce la fa lancia verso Di Biase che facilmente blocca la palla e la rilancia verso il centro ma c'è un buon Notarangelo che la blocca, la perde. Fischio di Castaldi. C'è un cambio. Esce Lino D'Alfonso sostituito dal dottor Pesa Sandro Pesa che entra con il numero 14. Ancora Notarangelo Trova avanti Di Laudo ovviamente che controlla passa ma i tiri non sono insidiosi facile il recupero da parte di Deglio Di Biase che da a Costantino Santini il quale da terzino si sposta facilmente avanti tanto che ha fatto il gol. Finisce a terra Lelio Maciulli Ancora Notarangelo Costantino che anticipa Bologna del quale è più giovane di una quindicina d'anni quindi gli è facile Notarangelo verso Di Laudo Di Laudo tacco indietro ma interviene Di Francesco che consegna a Di Biase controllo da parte del Fresa il Fresa gioca senza ansia mostra una certa superiorità adesso si sposta in avanti Costantino Santini che scambia con il centro avanti Nino Catalano il quale però non conclude e Lucio Barisano torna padrone della sfera ancora Notarangelo evidentemente Paladino lo ha spostato in avanti e lui è sempre presente oppure fisicamente ce la fa perché tutta una serie di giocatori che avevamo visto all'inizio adesso sono un po' nell'oblio intanto blocca ancora Deglio Di Biase Renato che però fa finire la palla no, non finisce fuori perché facilmente Fresa e ora Pesa nella fascia laterale destra controllano controllano i Trignini comunque cercano di sfondare non ci riescono Elvio Maciulli fischio di Castaldi fischio di Castaldi e calcio di punizione in favore dei Trignini batte Berardi che scambia no Di Laudo Di Laudo in avanti Di Laudo in avanti ma la difesa di Fresa abbiamo Costantino Santini che in effetti fa la differenza c'è Angelo Longhi qua a bordo inquadriamo Angelo Longhi che non ancora entrerà per mantenere probabilmente il risultato con il numero 15 Donofrio Donofrio però non aggancia anche se non si rassegna Duetta con il centravanti del Fresa e manda la palla indietro verso il portiere Barisano Barisano verso Giuliano Giuliano che controlla e scambia con il suo compagno di gioca che scavalca Naglieri mentre manda a riposo tutti finisce il primo tempo mentre Castaldo manda tutti a riposo